Grande successo di pubblico e consensi per la tradizionale festa dell'aria che si svolge ogni anno, a parte gli ultimi due a causa dell'emergenza Covid-19, il giorno di Pasquetta presso la fortezza di Montalfonso a Castelnuovo di Garfagnana. Più di 400 persone sono giunte nel capoluogo Garfagnino con il treno storico speciale trainato dalla motrice a vapore e con vagoni dell'epodo. I partecipanti, una volta giunti a Castelnuovo, hanno partecipato alla manifestazione all'interno della fortezza estense. Nel pomeriggio, grazie soprattutto al servizio navetta, i migliaia sono saliti alla fortezza di Montalfonso per trascorrere il giorno del pellegrino all'aria aperta, grazie anche alla temperatura piuttosto mite. Dopo due anni di stop dell'evento, forse nessuno si aspettava un successo così. Veramente oggi c'è stata un'esplosione di persone, forse dovuta anche al fatto che sentivano veramente il bisogno di trovarsi in questo luogo, in questa giornata tra l'altro con il clima formidabile e veramente tanta gente e con un'organizzazione della protezione civile che insomma ha rispettato un po' tutti i canoni dell'organizzazione. Oltre alla protezione civile comunale, ad organizzare la manifestazione e l'amministrazione comunale di Castelnuovo, in stretta collaborazione con l'Associazione Autieri d'Italia Sezione Garfagnana, che ha saputo accogliere i visitatori e servire i pasti con una certa velocità, grazie agli oltre 40 volontari presenti. Questa veramente, spero che sia veramente la ripartenza perché ne avevamo veramente bisogno, ci fa anche senso vedere tanta gente perché non eravamo, non lo so, è una gioia vedere tanta gente tutti insieme e a noi ci ha fatto viaggere e servire tutti. Nel corso della giornata, tra le altre cose, è stato possibile partecipare a giri in elicottero e grande attenzione è stata riservata ai più piccoli con varie attività ludiche, fisiche e artistiche.